vediamo mirko qua dice che c'è probabilmente un pescetto gli ha tirato via anche le orecchie con sta ferrata dovrebbe esserci penso e se non c'è paolo c'è qualche gruppo pazienza modello juventus sia di sera e non nominiamo queste cose vediamo un po vediamo un po mai preso ma ti ho detto il bucola davanti le scoglie davanti la diga cosa è grazie grazie eccola la piccolina però è un inizio da rilascio bella bella e via lei è tornata a nuotare bene